il film che mi è piaciuto di più del 2020 quello che mi ha più colpito è anche il film che ha vinto la mostra del cinema di venezia ed è nomadland terra dei nomadi di chloe zhao che è una regista cinese attiva da molti anni negli stati uniti e il suo terzo film il suo più importante interpretato da una meravigliosa intensissima francis mcdormand che ha il ruolo di una senza fissa dimora una delle tante persone che negli stati uniti per un motivo o l'altro hanno perduto la casa e vagano da un posto all'altro da un piccolo lavoro all'altro però la chiave di questo film è che lei vive questa condizione con grande forza d'animo con grande serenità con grande piglio e con grande attenzione agli altri gli altri nomadi come lei che incontra negli episodi di questo film che è al confine fra la finzione e il documentario perché l'unica attrice professionista è proprio lei frances mcdormand insieme a david straight herner meraviglioso interprete anche lui tutti gli altri sono veri senza fissa dimora persone che la telecamera esplora nelle rughe nei mezzi sorrisi negli sguardi verso l'orizzonte l'orizzonte che poi l'orizzonte sconfinato degli stati uniti è una sorta di western dell'anima se si vuole nel quale frances mcdormand raggiunge un'interpretazione meravigliosa che si somma a quelle di fargo di tre manifesti a ebing missouri anche della serie televisiva olivia kitteridge di cui è protagonista frances mcdormand è la più grande attrice del momento negli stati uniti insieme a meryl streep e in questo film racconta la dignità l'umanità fortissima di persone che invece la società ha lasciato ai margini e lei dice una frase in inglese dice i'm houseless not homeless che vuol dire io non ho un'abitazione ma non sono senza casa la sua casa è un furgone che lei porta in giro negli stati uniti la cosa importante che la libertà si sente sia in quello che i personaggi fanno sia nello stile cinematografico che la regista sceglie è la libertà di non avere una storia precostituita di non voler dimostrare una tesi la libertà di fare un film che va da un episodio a un altro quasi in un movimento circolare come se non ci fosse un punto dove si deve arrivare un film veramente libero toccato dalla grazia della colonna sonora di ludovico inaudi compositore italiano già celebrato dai film di nanni moretti e da molti altri e qui capace di sottolineare da per suo i momenti di maggiore intensità emotiva un'intensità emotiva che però non è melodramma non è voglia di giocare con la lacrima facile non è voglia ricattatoria di costruire l'emozione dello spettatore anche lo spettatore si senta libero e questo film non abusa mai della sua emozione quindi per questo è un grande film un grande film che probabilmente avrà il suo riscontro anche nella notte degli oscar buona notte